veniamo all'ultima cosa divertente tra virgolette non è non è il penguin anche questo fa molto ridere involontariamente fa molto ridere questo si ha messo una storia tipo vado a roma alla repubblica di roma lui ha scritto roma però effettivamente dovrà cercare bene per trovare la repubblica di roma tra l'altro mi fa mi fa troppo ridere questa cosa penso che il mio lontano cugino davide santoro si troverà una sorpresina ma quindi non avete usato gli orecchini della fusione ancora non ancora forse anticipa di tempi perché è un veggente un preveggio utilizza la preveggenza però la domanda mi faccio io è ma pure l'altro giorno diceva sono da torino per denunciare white half e si muovono a roma per denuncia a noi ma apparentemente lui si gira tutta italia per fa una denuncia ma non basterebbe contattare un avvocato ma io non sono molto esperto di queste cose di solito le ricevo davide no ma non era non era una domanda era una domanda retorica però forse allora può essere interessante cioè diciamo che un viaggio itinerante in cerca dei personaggi da querelare e quindi dice già che ci sono mi faccio un viaggio a roma così presento io ha sbagliato per la cronaca anche il nome di white half che non è non diciamo però comunque quello è alfonso ma io pensavo ma io alfonso io per legali legali lo studio legali bonelli erede io con alfonsini pensavo che si era sbagliato qua sdrubalini quindi pensate intanto oggi provvederò a denunciare presso la repubblica di roma indipendente la repubblica indipendente i signori del cerbero nelle persone di davide marra e sono io gialluca miele ok presumibilmente è il sio davide santoro che qualcuno sarà e anche fabio così mano ma vabbè giugno alfonsini e l'iccardo rosario chitano ti sei salvato eh io c'ho la protezione politica ormai ormai per l'iccardo il nome è diventato l'iccardo il cognome rosario perché prima sono tutto e tutti nome cognome e lui invece è l'iccardo rosario molto soprattutto bravo l'onardo e bravi tutti perché è un consiglio per voi questo non per noi fate tante sub che gli avvocati vi costeranno parecchio faccina a presto allora io ribadisco che questo questa modalità intimidatoria te la puoi tranquillamente ficcare nel deretano caro mio no no sono molto serio questa cosa di denunce cosa fate fate le sub che vi servono perché vi sfilo pure i box facciamola finito un dossier su Alex Mucci tiralo fuori parlane questo non mi impedirà di dire la verità su di te lo capisci con le storie vado a roma vai 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 alla ricerca della repubblica di roma vai ci metterai un pochino ma se comprassimo un lingotto ma poi la bellissimo la querela per aver ospitato germano milite milite per aver ospitato germano milite e per aver mostrato delle sentenze dei dati veri pezzesco testimonianze incredibile ma infatti pure gibba adesso adesso ne passerà a gibba diciamo che a denuncia alla repubblica di roma si non è molto attenzibile andremo davanti ai senatori o al senato al come si chiama ai senatori ah è arrivato